Quando si ha a che fare con una qualunque distribuzione Linux oppure con dispositivi di memorizzazione dei dati, ad esempio i server NAS, che utilizzano Linux come sistema operativo, può manifestarsi la necessità di accedere al contenuto di una partizione formattata con il file system ext2, ext3 o ext4. Se, un giorno, la distribuzione Linux oppure il dispositivo hardware basato sul pinguino non dovessero risultare più avviabili com, è possibile leggere le partizioni ext3 e ext4 da Windows senza troppe difficoltà. Ext4 è il file system che si propone come evoluzione delle versioni precedenti, ext2 ed ext3. Le principali migliorie sono prestazioni, garantendo ext4 un più rapido accesso ai file memorizzati su disco. Il successore di ext3 permette, rispetto a quest'ultimo, la memorizzazione di file di grandi dimensioni, superiori a 16TB rispetto agli oltre 2TB di ext3, previene la deframmentazione dei dati ed integra nuovi meccanismi per l'allocazione delle informazioni ed il controllo di integrità. Il problema è che non sono moltissimi gli strumenti software che permettono di leggere il contenuto delle partizioni ext4 da Windows, con comodità e senza troppi equilibrismi. Per non parlare poi dei programmi che consentono non solo di leggere ma anche di scrivere su partizioni ext3 e ext4, essi si contano sulle dita di una mano. Suggeriamo la lettura dell'articolo accedere alle partizioni Linux da Windows, con divisione delle cartelle e file system per approfondire. Il tema della lettura dei dati da partizioni ext Linux. Utilizzando i software che vi proponiamo, sarà possibile collegare un hard disk contenente partizioni Linux ad un sistema Windows, usando un connettore SATA libero oppure un adattatore USB SATA. Si pensi ad un disco proveniente da un'unità NAS, basterà disconnettere l'hard disk e collegarlo al sistema Windows che si intende. Sfruttare per il recupero dei dati o comunque l'accesso agli stessi. Un programma eccellente che permette di leggere le partizioni ext da Windows a Disk Internals Linux Reader. Distribuito a titolo completamente gratuito, il software permette di estrarre i dati memorizzati in una partizione Linux ext2, ext3 ed ext4. Il programma riconosce correttamente e garantisce anche l'accesso alle partizioni HFS e RazerFS, da ambiente Windows, semplicemente. Utilizzando un'interfaccia che ricorda da vicino la finestra computer o risorse del computer. Disk Internals Linux Reader Download, Disk Internals come compatibile con, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Licenza, Freeware ancora più fresco e Peragon Extfs, uno dei pochi tool per Windows che permette di accedere in lettura e scrittura a partizioni ext2, ext3 ed ext4. Diversamente rispetto a Linux Reader, Peragon Extfs supporta tutte le versioni di Windows, anche le più recenti, comprese, quindi, Windows 7 e Windows 8. Come nel caso di Linux Reader, anche Extfs provvede ad installare in Windows un driver aggiuntivo che rende il sistema operativo in grado di accedere al contenuto delle partizioni ext Linux. Dopo aver avviato l'installazione di Extfs, verrà presentata la seguente schermata, la routine di installazione provvederà a riconoscere l'architettura del sistema operativo, 32 o 64 bit, e proporrà il caricamento della versione corretta del driver. Il software di Peragon non verrà inserito nel menu Start di Windows, esso risulterà avviabile dalla cartella. Attraverso la finestra principale di Extfs, si potranno decidere quali partizioni ext2, ext3 o ext4 si desiderano montare ossia, rendere direttamente accessibili dall'interfaccia di Windows. Basterà selezionare la partizione d'interesse e quindi cliccare sul pulsante Mount. Rispetto ad altre soluzioni concorrenti, Extfs permette l'accesso in scrittura anche alle partizioni ext4. Peragon Extfs Download, Peragon Software Come compatibile con, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Licenza, Freeware per utilizzo personale note, per scaricare. Il programma è necessario operare una registrazione gratuita sul sito di Peragon. Entro pochi minuti si riceverà il link personale utilizzando il quale sarà possibile avviare il download. Chi preferisse non installare all'unque in Windows, può sicuramente utilizzare, come alternativa, una distribuzione Linux Live, avviabile da una chiavetta USB. Ottima scelta è Xubuncha 13,04, versione compatta derivata da Ubuntu, che può essere utilizzata per avviare il sistema da un supporto. Rimovibile qual è una chiavetta USB? Per installare Xubuncha su una penna USB, suggeriamo di ricorrere ad utilità come Yumi oppure Sard installare sistema operativo da USB o ad avviarlo dalla chiavetta. Per montare una partizione EXT3 o EXT4, si potranno digitare, da finestra del terminale, i seguenti comandi, al posto di dovrà essere specificato l'identificativo della partizione da montare. Per ottenere informazioni sulle partizioni, anche se EXT4 ed anche se create su dischi GPT, si potranno digitare i comandi seguenti. Due punti.